La 26enne Vanessa Zappalà stava passeggiando alle 3 della notte con alcuni amici sul lungomare di Acitrezza. È arrivato l'ex fidanzato, così hanno raccontato i testimoni, che ha sparato diversi colpi di pistola, almeno 6, uccidendola. La relazione tra i due era finita e probabilmente questo è il motivo che ha scatenato l'ira dell'uomo. Quest'ultimo era stato denunciato per stalking da Vanessa Zappalà, originaria dei Tre Castagni. Per quel reato la procura di Cateani aveva chiesto e ottenuto dal GIP che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento. Uno dei colpi sparati ha colpito alle spalle un'amica della vittima senza procurare gravi conseguenze. Il killer, che è di San Giovanni Lappunta, si è dato alla fuga, ma per gli investigatori ha un nome, un cognome ed un volto. Dunque i carabinieri sono fiduciosi. La caccia all'uomo non dovrebbe durare a lungo.